Mi chiamo Anna Chiara Piffari, sono un'insegnante e sono anche un analogista. Ho conosciuto l'analogia quasi per caso, ma lavorando per tanti anni con quelli che io chiamo i miei bambini speciali mi sono sempre chiesta se non esistesse un altro modo per comunicare con loro. Ecco, le discipline analogiche benemigliane mi hanno fornito una grammatica di comunicazione profonda che va ben oltre alla normale comunicazione quotidiana che noi siamo abituati ad avere tutti i giorni. La possibilità veramente di poter parlare con l'emozione di chi mi sta di fronte e anche con la mia stessa emozione. Lavorando appunto con ragazzi che hanno spesso preclusa la possibilità di comunicare verbalmente o che comunque infaticano ad esprimersi in un linguaggio comune, quello da tutti utilizzato, il conoscere le discipline analogiche mi ha veramente aperto un mondo perché sono stato in grado di poter comunicare con loro, con me stessa, con gli altri, con una nuovissima grammatica. Gli studi di Stefano Benemeglio, ovviamente all'avanguardia, proprio sotto questo aspetto, mi hanno dato degli strumenti incredibili per una conoscenza più profonda di me stessa, di chi mi sta vicino e delle persone che incontro tutti i giorni. Come insegnante è fondamentale poter intervenire nella relazione con i ragazzi anche dal punto di vista emotivo, non solo cognitivo, noi sappiamo bene che non esiste apprendimento quando l'aspetto emotivo non viene coinvolto, non esiste quantomeno apprendimento profondo. Io auspico che la scuola prenda in considerazione veramente questi aspetti che sono all'avanguardia nella comunicazione, nella relazione e sono veramente molto molto grata di avere a disposizione questi incredibili strumenti che mi ha regalato Stefano Benemeglio.